Siamo già pronti per la nuova storia, il nuovo capitolo di Resident Evil 2 HD. Vai, vai, vai! 19.30 si inizia la partita. Avvia il gioco. Preparazione. Resident Evil mostra aggiornamenti. 20 minuti, bene. Adesso che voglio giocare deve fare l'aggiornamento. Con un quarto d'ora di ritardo accendiamo di nuovo. Resident Evil 2 HD Remix. Per la quarta puntata sul nostro canale. Via il gioco. Ammazza. Storia di tutti i giorni. Continua. Ok. Dobbiamo ritornare nel parcheggio che abbiamo recuperato. Ho preso la seconda scheda. elettronica. Andiamo qua. Cosa possiamo fare intanto? Abbiamo queste piante blu-rose. in varie quantità, diciamo. E ho scoperto l'ultima volta che si possono combinare. Ed è quello che facciamo. Combina, combina, combina. Combina, combina. Continua in mia vita. Get il sonne off. Ogni tanto canto un po' qualcosa in tedesco. che mi piace. E' quello che mi piace. Allora lo faccio. Eccoci qua. Abbiamo tutte queste piante rosse e blu combinate. e ce le portiamo con noi, o magari, dai, una la lasciamo qui perché ci serve un po' di posto nel repertorio e possiamo anche scartare queste due chiavette, visto che hanno la segna all'etica rossa lì, scarta, ok, vuol dire che non ci servono più, e adesso dobbiamo andare qui nell'archivio perché voglio proprio terminarlo e renderlo anche col colore blu via dal rosso, è un po' che vogliamo terminarlo, ma ci manca ancora un oggetto, perciò, aspetta, qual è questo? adesso lo andiamo a prendere, ed è una bomba a mano, una bomba a mano e vediamo che qui l'abbiamo fatto, finalmente tutto il primo piano completato e adesso che dobbiamo, vediamo che abbiamo componente quadro elettrico e componente elettrico e andiamo con questi due componenti giù di nuovo al parcheggio perché è là che dobbiamo andare, penso, eh però non so come fare P1 e come cazzo, mi sa che dobbiamo andare giù di lì prima che arrivi l'amico è andato giù di qua? no, non lo so, eh, non lo so, non lo so, come si fa? come si fa? non lo so non lo so, come andare nel parcheggio non mi ricordo proprio pio non mi ricordo pio lo devo vedere qua a destra, subito ancora la signorina signorina oh no, arriva il tipo porca puttana Si mette male Fuori 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 Due volte a destra Chiuso qua Peccato Non so mica come si fa Chiuso 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 Dove è Mr.X qua Porca troia Non so come fare Ficcio stars Dimma in ma vita che ti sonne ho La rompita dei coglioni Bastardo Minche guarda questo Cosa fai? Aspetta facciamo col coltello Aspetta facciamo col coltello Aspetta facciamo coltello Facciamo coltello Cosa dai Due insieme Ed Ancora? Ciao! Ehi ma è ma vita che ti sogno! Dai! Ciao notte! Come cazzo si fa a uscire di qua? Qua non si esce! Come si fa ad andare giù nel garage? Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Si può andare giù di lì? Oh no! Si può andare giù di lì? Si può andare giù di lì? Ho trovato la via! Ok! Abbiamo più tante palottole però! In riserva! In riserva! Aspettiamo! Cosa possiamo fare qua? Niente! 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 Si mette male! Ok! Qua! Mi sa che abbiamo fatto... Tu? No no! Non mi servi è... Qua di qua dai! Dobbiamo andare... A quella... Prigione lì! Passando queste celle... Per il pannello di controllo! Pannello di... Cosa c'è scritto? Pannello... 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 Pannello di controllo porta! Ah! Ok! Ok! Devo andare proprio verso... Verso qua! Verso di qua! E c'è! 12 palottole! Qui c'è l'amico che sta riposando che non ci interessa no? Qui... Non ci interessa... Nemmeno! Dobbiamo tornare indietro! Ma serve! Forza di qua! Perciò... Un po' ci interessa! Ah! Non so cosa ci andremo incontro! Eh! Se è attivo... Il meccanismo elettronico... Sono guai! Mi sa eh! Va bene! Inseriamo... Qui bisogna esaminare... Intanto... E poi... Girare lo scatolone... La scatoletta... Premere A... Aspetta... Scusate... Ma è un po' che non ci gioco... Perciò... Con i comandi... Eccoci qua! Componente elettrico! Oggetto chiave... Una piccolo... Una piccolo... Componente elettrico! Bene! Un piccolo componente elettrico! Usa! E mo? Dobbiamo... Cosa dobbiamo fare? Seleziona pannello! Cosa dobbiamo fare qua? No? Pisa che devono accendersi tutte e due le spie... Allora... Una è collegata alla rossa... Adesso dobbiamo collegare ancora la blu... E' collegata la blu, la rossa no ancora. Eccola! Si apre automaticamente. Adesso se prendiamo la tessera del signore scattano i guai. Sì, ma questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che l'Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio dell'Umbrella. Dai Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus... ...e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare... Laboratorio sotterraneo, ragazzi. Pericolo in vista. Trascrizione intervista. Va bene dai, non lo leggo di nuovo. L'abbiamo sentito. Ah, che dite? Tessera parcheggio. Parking permit. Bene. Fuggi dal parcheggio. Qua cosa c'è? Ah, questo ci può servire. Stanno cercando. Nota di Ben. Centrale invasa dai mostri. Riesco a sentire loro lamenti, ma non sono loro che mi spaventano. Non mi ricordo di Tyrant. L'arma biologica definitiva sviluppata da quei bastardi nella massima segretezza. Il loro pensiero che quella bestia sia quinto uno. È molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone o uno dei quali saremo noi. Perciò dobbiamo stare attenti che di sicuro siamo sotto attacco adesso, fra un po'. Ragazzi, qua bisogna darcela a gambe. A gambe, a gambe. Qui c'è anche Mr. Tyrant. Hilter il fire di Defoe. Capote! C'è un po' di Sontomla. Mister Tyrant! Brutto bast besser. Che è un po' di Patedra. No, non, non, non. Non c'è un po' di Sontomla. via anche sto qua ce l'ha aspetta in altra parte vai 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 no ancora lui ciao oh c'è Wanda che viene a spillo a salvarci la pelle sono stanca è la seconda volta che ti salvo vabbè non pensavo te ne sei colpa ehi questo non ha un gioco non posso arricci ma qui non muore niente hai con te la tessera? sì, sì, è questo speravo potesse spiegarmi forse prima lo sai andiamoci buona idea dai fila grazie a tutti Grazie a tutti.